Hello, hello vanitose! Ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi vi darò 10 consigli di su come tenere i capelli prima e durante la notte per avere dei capelli meravigliosi il mattino dopo. Mi presento, io sono Brigida Ferracini del blog e canale Ragazza Vanitosa. Qui nel canale abbiamo tantissimi contenuti per le ragazzerice, per i capelli in generale, ma anche di make-up, abbiamo dei video vlog. Insomma, guardate anche i video precedenti perché c'è tanto materiale interessante qua su questo canale. I capelli si rovinano durante la notte per via dell'attrito, quindi quello che dobbiamo evitare è l'attrito, l'attrito col cuscino, l'attrito con i vari tessuti in cui siamo in contatto durante la notte. E sapendo quello che avremo da affrontare durante la notte, la prima cosa che mi viene in mente è prevenire. Quindi il mio primo consiglio è applicare dell'olio vegetale sulla punta dei capelli. Questo sigillerà le punte facendo con cui l'idratazione rimanga più intrappolata all'interno dei capelli e l'olio va bene quello che ti piace di più. Olio di cocco, argan, può essere anche un cristallo liquido, anche se io preferisco un olio vegetale. Il mio secondo consiglio è quello di applicare una crema sulla lunghezza dei capelli. Importante, questa crema non può essere una crema molto sostanziosa, quelle creme spesse, molto oliose, se no andrà a disporcare i capelli. Quindi applicare una crema leggera sulla lunghezza e punta dei capelli. Questo lo si applica leggermente, non per inumidire tutti i capelli, ma giusto per prevenire, magari anche concentrandoci sulle zone più secche. E come io vi dico sempre, un buon consiglio deve sempre essere condiviso. Quindi condividi questo video con la tua mamma, zia, nonna, sorella, cugina, amica, vicina, lontana, sul tuo gruppo di Whatsapp. Invita tutte le tue amiche per far parte di questa famiglia di ragazze vanitose. Un altro che ci può aiutare è lo spray per il day after. Vi ho lasciato qua nei card una ricettina meravigliosa di spray per utilizzare nel day after, però che può essere utilizzata anche prima di dormire in questa preparazione per andare a letto. L'importante è la stessa cosa, applica sulle lunghezze e punta senza inumidire troppo, ma soltanto per dare quel tocco di idratazione. Mi raccomando però per non sporcare i capelli, utilizza soltanto uno di questi tre modi che vi ho elencati. Dopo che abbiamo dato un pochino di più di idratazione ai nostri capelli, possiamo scegliere una conciatura da portare durante la notte. Possiamo scegliere tra l'ananas, che è diciamo quello più classico, ed è la conciatura che io utilizzo di più. Una cosa importante è che questa coda sia fatta ben al topo, in alto, in cima alla testa. Questo eviterà con cui le punte dei nostri capelli si rovinino durante la notte. Questo però non protegge i capelli della nuca, che andranno sì a perdere un po' del riccio e della definizione. Però questo si può risolvere la mattina dopo con le spray per il day after, quello che vi ho elencato prima. E gli elastici che io prediligo per fare il mio ananas sono l'Invisibubble e gli elastici senza l'aggiunzione in metalli. Il prossimo è uno dei miei metodi preferiti, che è la cuffia in sete. Vi ho fatto anche un DIY di come farlo, vi lascerò il link qua nelle schede. Questa invece è perfetta per chi soffre con il mal di testa, fastidio, con l'elastico, eccetera. Perché questo basta inserire tutti i capelli dentro la cuffia e dopo di che andare a letto. I capelli rimarranno sciolti dentro la cuffia, ma sempre idratati. Questo perché la seta o il raso che sia diminuisce l'attrito con i capelli, non assorbi tanto l'idratazione rispetto a un tessuto di cotone. Ecco perché la cuffia inseta o il raso. Il prossimo modo è uno che utilizzo spesso anche questo, che è lasciare i capelli sciolti. Cioè proprio sciolti come stanno così. L'unica cosa che faccio è alzarli e dopodiché curcarmi a dormire tutta la notte. L'importante però per chi vuole dormire con i capelli sciolti è avere una federa in raso o seta. Questo per lo stesso motivo perché il raso e la seta non causano tanto attrito con i capelli ricci. Però se non ne avete potete comprare un tessuto e portare da una sarta o comprare una già pronta. In qualsiasi modo, se non lo volete scomodare, potete prendere anche una maglietta, un vestitino in seta o in raso e avvolgere il vostro cuscino. In questo modo avrà lo stesso effetto della federa. Uno che tra tutti questi che vi ho elencato è quello che utilizzo di meno. È un plopping, lo possiamo anche chiamare turbante, come volete. L'importante è che il tessuto che andremo a utilizzare sia un tessuto in seta o raso. E vi dico una cosa, tutti questi modi che vi sto elencato qua funzionano davvero. Questi consigli che vi ho appena dato proteggeranno più che altro le lunghezze e le punte dei capelli. La zona della nuca è la laterale dei capelli, che è dove ci appoggiamo per dormire. Su questo non influisce più di tanto, comunque perderà un po' della definizione, un po' di riccio. Perché comunque andremo a dormirci sopra. E del resto questa perdita della definizione la possiamo riavere con il famoso spray per il day after. Quindi la mattina dopo applicare questo spray sulla zona meno definita dei vostri capelli. Lasciatemi un commentino qua sotto se volete un video dedicato al day after, ossia al giorno dopo, il passo successivo, quando ci svegliamo per sistemare i capelli, quello minimo che ci vuole per essere pronta, per uscire, andare a lavoro, iniziare la giornata. Io spero che abbiate apprezzato i miei consigli e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!